Grazie Presidente. Ministro Nordio, come lei sa, da molto tempo le carceri italiane sono ridotte a luoghi di pura afflizione per i detenuti e di negazione della dignità umana. Una parte di questa afflizione è dovuta al fatto che è completamente negato il diritto alla vita affettiva e alla sessualità alle persone detenute. Da questo punto di vista l'Italia è un caso raro in Europa perché la maggior parte degli altri paesi regolamentano la possibilità di esercitare questo diritto. La Corte Costituzionale nel gennaio scorso con la sentenza numero 10 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario proprio nella parte in cui non prevede la possibilità per le persone detenute di avere colloqui con il coniuge o con la parte dell'Unione Civile o con il partner in genere senza il controllo a visto del personale di custodia. Ora, alla luce di questa sentenza cosa ha fatto, cosa sta facendo il Governo per rendere effettivamente godibile ed esecutiva quella sentenza e godibile il diritto all'affettività e alla vita sessuale per le persone detenute? Sentiamo la risposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Prego, Signor Ministro. Dovranno essere creati all'interno, e stiamo già iniziando a farlo, ma ripeto, non è una cosa che si possa fare dall'oggi al domani, all'interno degli istituti penitenziari degli appositi spazi. Ovviamente anche il personale deve essere addestrato su questo, perché anche questa è una novità. Quello che posso dire è che il Governo è pienamente, questo Ministero è perfettamente consapevole dell'importanza della questione, è deciso a dare pienissima attuazione a quella che è la sentenza della Corte Costituzionale. Purtroppo, ripeto, la novità, perché sappiamo tutti che si tratta di una novità sia pure encomiabile, sia pure in linea, come ha detto lei giustamente, con gli altri ordinamenti europei, o quantomeno di molti ordinamenti europei, non è una cosa che si possa fare dall'oggi al domani, ma cercheremo di farla nel più breve tempo possibile. Grazie. Ascoltiamo la replica del Deputato Maggi. Prego. La ringrazio, Presidente. Io ringrazio il Ministro Nordio per la risposta e ovviamente siamo lieti di aver ascoltato che c'è una volontà da parte del Governo, mi viene anche da dire, ci mancherebbe altro, di rispettare la sentenza della Corte Costituzionale. Forse, Ministro, si potrebbe partire con delle visite, magari organizzate da questo tavolo multidisciplinare, come l'ha definito lei, o dal DAP, nei paesi nei quali oggi già avviene la possibilità per le persone detenute di vivere la propria vita affettiva e anche la vita sessuale. Austria, Belgio, Svezia, Svizzera, Francia, Germania, Norvegia, Danimarca, Croazia, Finlandia, Olanda, Spagna, Albania. Scegliete voi da quali iniziare. Questo per dire che la novità è percepita come una novità nel nostro ordinamento, perché il nostro ordinamento e la nostra cultura è estremamente arretrata da questo punto di vista. Se fate una prova e provate a parlare in molti consessi anche di persone che si ritengono avanzate e colte da un punto di vista della cultura giuridica, della vita, della sessualità nelle carceri, vi sarà un senso un po' ipocrita anche di risolini o di battute della serie Sì, adesso ci mancherebbe altro. Ecco, il punto è proprio questo. Le nostre carceri vanno completamente riformate. E questo punto della vita affettiva in carcera è proprio un punto da cui partire. Perché la negazione della libertà è la pena, ma la negazione della libertà non può estendersi alla negazione del diritto alla vita affettiva. È qualcosa di inaccettabile per la nostra cultura giuridica. Quindi facciamo e fate lo sforzo di ribaltare i termini e di provare a mettere questa esigenza tra le prime per riformare il carcere. Cominciate a immaginare in quali luoghi delle attuali istituti penitenziari questo si può fare. Ripeto, in altri paesi europei dove hanno pure il grave problema del sovraffiolamento che noi abbiamo e che è aggravato dalle politiche di questo governo, il capo del DAP ci ha detto 400 nuovi ingressi in carcere. Andate a vedere quanti di questi sono dovuti al decreto Caivano e alle norme sui reati di lieventità. Ma comunque, anche in paesi in cui c'è la piaga del sovraffiolamento penitenziario, concludo, è garantito il diritto all'affettività e alla vita sessuale dei detenuti. Bisogna avere coraggio, Ministro. Grazie.